eccoci qua salva tutti buon natale naturalmente e benvenuti ascoltiamo un disco in questa in questo modo abbastanza strano e nuovo molto al passo coi tempi e cioè per la prima volta in streaming per tutti coloro i quali per la prima volta assistessero a questa a questo tipo di proposta musicale vi dico che ascoltiamo un disco è un'iniziativa che da quattro anni ormai direi facciamo in questo posto dove vi sto parlando oggi cioè mare culture all'urbano un centro culturale molto interessante e molto bello e molto accogliente che c'è a milano nella zona di san siro dove qualche anno fa ci siamo inventati questo modo di riscoprire i dischi i dischi come opere d'arte come pezzi veri di vinile che contengono canzoni e per riscoprire anche il piacere di riascoltare un disco dall'inizio alla fine cioè raccontare che cosa sono le che cosa vogliono dire e che cosa hanno significato nella storia le grandi opere musicali e ascoltarle insieme come si faceva una volta tutti insieme seduti nella stessa stanza in questo caso la stanza è una stanza virtuale però vi invito già a stare tranquilli a mettervi a mettervi in in tranquillità perché oggi parliamo di bruce princeton e notoriamente bruce princeton è un artista che fa dei concerti molto lunghi per cui non solo ascolteremo il suo album best seller born in the usa ma racconteremo un po della sua vita della sua vita artistica vedremo dei contributi filmati importanti della sua carriera insomma passeremo un po di tempo parlando di questo grande artista che è nei nostri cuori che tra l'altro è molto legato per certi versi poi lo vedremo al quartiere da cui vi stiamo parlando c'è san siro perché uno dei momenti importanti sarà appunto il suo arrivo nel 1985 proprio nel tour di questo album allo stadio di san siro per il primo dei suoi tanti concerti italiani un fortissimo legame con l'italia a bruce princeton a partire dalla dalle sue radici dalla sua nascita qui infatti vedete il giovanissimo appena nato bruce princeton che nasce il 23 di settembre del 1949 a freehold nel new jersey un sobborgo della città di asbury park vedete i suoi genitori douglas springsteen e adele zirilli la quale appunto si chiama zirilli di origini italiane del sud italia sono le origini della famiglia materna di bruce princeton douglas princeton è un veterano della seconda guerra mondiale è un personaggio che sarà molto importante nella carriera di springsteen nel bene nel male nel senso che ci sarà sempre un rapporto molto conflittuale con il padre che verrà tra l'altro molto ben raccontato nel libro questo bellissimo libro autobiografico che si chiama born to run uscito qualche anno fa che appunto la storia di bruce princeton e anche nello spettacolo springsteen on broadway che poi lui ha fatto pochi anni fa dopo l'uscita della 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 sua biografia abbiamo detto che bruce princeton cresce a freehold queste qui vediamo le foto di casa sua la casa del giovane springsteen che qui qui questa è una è una foto di lui nella sua scuola la san rose of lima school lì vedete che c'è il la foto della scuola e lui che cresce appunto ragazzino con la moto a freehold new jersey subito molto affascinato dal mondo musicale infatti ci sono due momenti importanti nella formazione del piccolo springsteen che vedete con la sua prima chitarra la prima chitarra lo vedete nella foto centrale regalata dalla mamma mentre il padre era contrario al fatto che lui suonasse la chitarra non non era non incoraggiava il giovane bruce musicista però ci sono due momenti entrambi legati alla televisione fondamentali nel nella carriera nella vita di springsteen il primo è il il 6 gennaio 1957 quando elvis presley appare all'ed sullivan show e qualche anno dopo nel 64 quando i beatles appaiono all'ed sullivan show sempre lo stesso show televisivo qui vedete ed sullivan con elvis ed sullivan sette anni dopo con i beatles che cosa dice bruce springsteen dell'apparizione di elvis in televisione dice non era solo il modo in cui elvis appariva era il modo in cui si muoveva che faceva impazzire la gente made people crazy pissed off driven to screaming ecstasy li portava all'estasi urlante and profane revulsion questo era la televisione quando fecero un tentativo di censurare elvis presley dal dal bacino in poi cioè in giù naturalmente perché lo chiamavano elvis the pelvis it was because of what you could see happening in his pants quello che succedeva nei pantaloni elvis presley era la cosa veramente rivoluzionaria elvis è stato il primo uomo moderno del ventesimo secolo il precursore della rivoluzione sessuale della rivoluzione dei diritti civili veniva da memphis come martin luther king e creava un fondamentale un fondamentale un fondamentale outsider art arte outsider che sarebbe stato abbracciato dalla pop dalla cultura popolare mainstream quindi questa è queste queste sono tutte parole che dice lo stesso bruce springsteen la televisione elvis gave us full access to a new language nuovo linguaggio a new form of communication a new way of being a new way of looking nuovo modo di sembrare di apparire a new way of thinking pensare il sesso la razza l'identità la vita un nuovo modo di essere americano un nuovo modo di essere umano è un nuovo modo di ascoltare la musica queste qui sono delle 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 rivelazioni assolutamente importanti e fondamentali per il giovane il giovane bruce prinstein che appunto viene affascinato delvis presley che appare in televisione tanto da formare la sua prima band la sua prima band è questa si chiamano the castils questa è una è una foto che vede i castils vedete il springsteen è il primo a sinistra cioè giovanissimo adolescente avrà avuto 15 anni 15 16 anni davanti a un locale che si chiama cafe wa a new york loro venivano dal new jersey quindi andare a new york era già un viaggio un viaggio verso il centro della musica la cosa interessante è al contempo triste di di queste foto dei castils sono che qui vedete diciamo la prima foto ufficiale della band no in posa ancora con questa questa atteggiamento da band anni 60 no un po un po beat con le con le frangette alla beatles l'ultima sinistra che vedete è george teis george teis è morto qualche mese qualche mese fa in realtà due anni fa l'anno scorso più o meno e è stato l'ultimo a parte springsteen in vita dei castils cioè i castils a questo punto sono tutti morti e la morte di george teis è quella che ha ispirato la scrittura di molte delle canzoni del nuovo album di bruce springsteen che si chiama letter to you uno dei più bei dischi dell'anno che però insomma nasce anche dalla consapevolezza di springsteen di essere the last man standing l'ultimo ancora in vita della sua prima band questa è questa considerazione amara e poetica al tempo stesso springsteen cresce siamo alla fine degli anni 60 e forma un'altra band una band importante per la sua formazione gli steel mill dove già vediamo alcuni degli elementi che poi faranno parte della east street band quindi danny federici little steven steve van zand che vedete alla chitarra nella foto grande lo vedete a torso nudo little steven che ha accompagnato e continua accompagnare springsteen ancora adesso da tutta da allora in tutte le sue formazioni le band che springsteen vedete che nel frattempo ha un look da giovane hippie noi con i capelli lunghi sta diventando un po un sex symbol un bel ragazzo un bel giovanotto ventenne nel 71 forma dr zoom and the sonic boom poi the sundance blues band e finalmente all'inizio del 72 the bruce springsteen band cioè springsteen diventa protagonista delle sue band è assolutamente un front man questi sono tre personaggi fondamentali della carriera musicale di bruce springsteen il suo primo manager mike apple che è quello che per primo dice mi occupo io di te farò di te una star come si come si suol dire con mike apple poi lui avrà un rapporto controverso litigherà lo lascerà qualche anno dopo però insomma comunque rimane un personaggio fondamentale il quale lo introduce a un discografico si chiama john hammond che vedete in centro il quale apprezza la musica di springsteen e parla con clive davis che è quello che vedete sulla destra sopra il logo della columbia clive davis è il capo dell'etichetta discografica columbia che firma il primo contratto discografico con bruce springsteen pensate che clive davis per chi ha assistito esattamente un anno fa alla all'edizione di ascoltiamo un disco in cui abbiamo parlato del primo album di whitney houston clive davis è un personaggio fondamentale uno dei grandi discografici della storia i primi contratti discografici di personaggi come janice joplin arita franklin patty smith bob dylan e poi più avanti nel tempo alicia keys e altri più recenti li ha firmati clive davis quindi un grande visionario della musica uno che capisce veramente dove è l'arte clive davis è l'uomo che fa firmare il contratto a bruce springsteen siamo nel 1972 e la stampa musicale comincia a parlare dei nuovi bob dylan cioè della nuova generazione di cantautori americani che potrebbe essere rappresentare quello che bob dylan ha rappresentato negli anni negli anni precedenti i nuovi dylan sono essenzialmente quattro per la stampa specializzata eliot murphy bruce springsteen john prine e ludon wainwright terzo guardate questa foto e sappiateci dire chi dei quattro ce l'ha fatta e chi invece è rimasto al palo nel senso che con tutto il rispetto per eliot murphy che continua a essere un grande musicista una persona molto simpatica anche lui molto legato all'italia al povero john prine che pochi mesi fa se andato per covi è stata una delle 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 perdite del mondo musicale dovuta alla pandemia e ludon wainwright che poi ha è stato capostipite della generazione della famiglia wainwright voi conoscete probabilmente rufus wainwright insomma però insomma diciamo che tra i quattro non c'è dubbio che springsteen è quello che qui è cascato qualcosa ma fa lo stesso fa parte del gioco che ce l'ha fatta siamo ancora nel 1972 e bruce springsteen registra il suo primo album qui lo vedete in studio di registrazione mentre legge il giornale accanto a lui ci sono mike apple il suo il suo manager e danny federici il suo fedele organista tastierista della prima band e qui mentre guarda ammirata la copertina del suo album che appena uscito che è questo qua greetings from asbury park new jersey saluti da asbury park la sua il suo luogo di nascita e una cartolina che lui trova da qualche parte in un negozio diventa la copertina del suo primo album album che esce poco prima del suo secondo album che è the wild innocent the street shuffle tutte e due dischi fondamentali ma che non hanno proprio un enorme successo commerciale ma che comunque cominciano a dire qualcosa nella carriera di bruce springsteen tanto che cominciano i suoi concerti un po più importanti e nel luglio del 1973 springsteen fa il suo esordio su un palcoscenico importante e cioè suona nella città di new york in un posto che si chiama maxis kansas city una serata che condivide con un altro esordiente guardate che meraviglia questo questa immagine questo è il maxis kansas city di new york che era uno dei due posti insieme a cvg bis dove frequentato dal dal mondo musicale che contava e nelle serate tra il 18 e il 23 di luglio del 73 bruce springsteen esordisce insieme un'altra band esordiente che sono i wailers quindi qui vedete sullo stesso palco lo stesso giorno bruce springsteen e bob marley pensate che bello essere stati lì in quel momento a vederseli tutte e due continuano i concerti di springsteen e sempre in quell'anno lui comincia una serie di concerti così vedo meglio anch'io all'harvard square theater insieme a bonnie rate alto personaggio molto importante del cantautorato americano di quegli anni a quei concerti assiste anche o almeno uno di quei concerti un giornalista che si chiama john landau il quale scrive su the real paper e scrive questa cosa che rimarrà come frase centrale della carriera di springsteen ho visto il futuro del rock and roll rock and rolls future john landau at the harvard square 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 theater la recensione del concerto di bruce springsteen da parte di john landau è il momento in cui cambia le cose nella carriera dello stesso springsteen john landau e bruce springsteen diventano amici e john landau diventa il suo manager e lo è tuttora cioè quello che tutta la vita accompagnerà springsteen nella sua carriera i so rock and roll future and his name is bruce springsteen questa è una pagina pubblicitaria per lui in cui ci sono delle frasi tratte dal dall'articolo che john landau dedica a lui dicendo questo è l'uomo su cui puntare per il futuro della musica è il momento di fare le cose sul serio c'è il momento di fare un disco di successo finalmente tra il maggio del 74 e luglio del 75 si registra l'album born to run qui vedete springsteen con alcuni dei suoi fedelissimi della band e queste qui sono le prove del della copertina del dell'album born to run il fotografo si chiama eric meola e ci sono questi queste queste fotografie in cui vengono ritratti essenzialmente springsteen è the big man clarence clemens il suo sassofonista e amico uomo di colore soul sassofonista viscerale persona anche che ha una importanza visiva nel 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 mondo di springsteen tant'è che questa è la copertina di born to run e la cosa strana è che la copertina avrebbe dovuto nelle intenzioni di della casa di squirafere essere questa cioè la foto che poi invece appare nel 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 nell'interno della copertina l'idea invece è quella di una copertina in cui si vede bruce springsteen ma aprendola si vede anche big man e quindi l'idea di una fratellanza di un di due mondi che si uniscono di due persone che uno si appoggia all'altro vedete springsteen si appoggia alla alla maestà di big man come dire io mi fido di te tu sei parte della mia musica musica nera e musica bianca che si incontrano il rock e il soul born to run è un disco straordinario e fa sì che bruce springsteen diventi il 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 rocker di cui si parla insomma una una star a tutti gli effetti tant'è che incredibilmente nel 75 l'album born to run viene lanciato attraverso una serie di concerti al al bottom line di 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 new york questo è il il poster di quei concerti e lo stesso giorno cosa che non succede quasi mai lo stesso giorno il 27 ottobre nel 75 bruce springsteen appare sulle copertine dei due maggiori magazine americani dei due delle due riviste più prestigiose time e newsweek che non sono riviste musicali ma sono riviste diciamo di costume e di politica time titola rocks new sensation e newsweek titola making of a rock star capite che l'america vedendo nelle edicole i due giornali principali tutte e due con la stessa faccia in copertina dice ma chi è questo qua continua la carriera di springsteen e si forma finalmente la classic line up cioè la line up definitiva della east street band cioè il 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 gruppo che springsteen si costruisce attorno questa è la 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 locandina dei dei suoi primi concerti in europa lui arriva in quel periodo a londra concerto sold out all'amersmith odeon e questa è una delle foto dei concerti di quell'epoca della east street band la classic line up è questa nessuno potrà mai battere la forza di questa band sono little steven van zandt alle chitarre max weinberg alla batteria danny federici alle tastiere naturalmente bruce springsteen in mezzo clarence big man clemens al sassofono il professore roy bittan al pianoforte e il bassista gary tallent questa foto è una foto che segna un momento fondamentale nella storia della carriera di springsteen e la potenza della sua band la quale si mette insieme a springsteen a registrare il disco successivo giugno dal giugno 77 al marzo 78 agli atlantic studios e ai record plant studios di new york vedete qua la band che registra l'album darkness on the edge of town cosa succede in quel periodo che c'è una vicina di studio che questa signora qua patty smith patty smith è la sua band qui la vedete con lenny k sul divano appunto dello studio mentre telefona e qui con con il patty smith group ricordiamoci che sono gli anni in cui poi patty smith arriverà in italia non nel 79 viso i famosi concerti a bologna e firenze allora lì succede che c'è un personaggio fondamentale nella storia di tutte e due ed è questo signore che vedete sulla sinistra lui si chiama jimmy iovine però gli americani pronunciano aiovin chi ha jimmy aiovin è un è un giovane ingegnere del suono italiano americano il quale vuole far carriera nel mondo della musica comincia a ad avere delle a lavorare a chiamata per degli studi di registrazione famosa una sua dichiarazione di quando racconta che in una domenica di pasqua con la mamma italiana che stava facendogli la pasta asciutta nella sua casa di new york gli arriva una telefonata e dice senti lo so che è domenica lo so che è pasqua però sarebbe un lavoro da fare in studio puoi venire e lui dice senti mamma sì qui mi chiamano io lavoro e devo andare e quel lavoro è fare il sound engineer di un album di john lennon e quello è l'inizio della carriera di jimmy aiovin questo signore qui pochi anni fa ha venduto il brevetto del cuffie beats one a apple per 3 miliardi di dollari è una delle persone più ricche e potenti del mondo musicale ma allora era la persona che faceva l'ingegnere del suono sia dell'album di princeton che che di quello di patty smith bruce princeton ha una canzone che si chiama because the night ma non lo vuole mettere nel disco perché è una canzone in più gli avanza dice vabbè questa la lasciamo lì ma jimmy aiovin l'ha sentita questa canzone peccato perché è un bel pezzo nell'altra sala c'è patty smith che di che a cui il discografico che è sempre clive davis tra l'altro dice sì vabbè bello l'album però ci manca un pezzo cioè ci manca un singolo una hit una cosa da radio e jimmy aiovin alza il ditino e dice veramente io ce l'avrei di là c'è uno che sta scartando una canzone la vuoi sentire fatto sta che questo è il momento in cui i due si incontrano e non c'è dubbio che because the night scritta da bruce princeton rappresenterà il momento di grande gloria di della carriera di patty smith per sempre questa è una foto questo vi fa capire quanto le copertine iconiche questa è la copertina che ho anche sulla maglietta le copertine iconiche dei dischi possono anche nascere da delle casualità sprinstein quel giorno va addon field a casa del fotografo frank stefanco va diceva dobbiamo fare un po di foto per la copertina del nuovo disco che ti pare di questa boh e facciamo che cambiamo camicia sta camicia qua con me boh lo vedete con quest'aria mi convince sta camicia facciamo senza canottiera boh canottiera un po un po un po troppo poco poi con questa finestrella dietro canottiera con giubbotto vabbè buona questa e questa è la copertina cioè la copertina di darkness on the edge of town che a noi sembra una copertina assolutamente iconica dietro nel retro a quella con la canottiera e basta però davanti c'è appunto bruce con il suo giubbotto darkness on the edge of town album clamoroso ma cosa succede fino adesso noi non abbiamo ancora visto sprinstein dal vivo non abbiamo ancora parlato della forza di quest'uomo nel mondo del live che poi quello che lo farà essenzialmente insieme alle canzoni naturalmente passare alla storia diventare leggenda l'occasione per tutto il mondo avviene nel settembre del 79 quando vengono organizzati dei concerti contro l'energia nucleare nel mondo i concerti si chiamano no nukes avvengono al madison square garden ci sono come vedete la copertina del disco una serie di personaggi fondamentali del mondo della musica di adesso qui nella foto vedete tom petty jackson brown e springsteen sullo stesso palco nella line up di quei concerti c'erano crosby season nash james taylor i dubbi brothers carly simon nicolette larsson tant'altro gil scott heron insomma tanti artisti uniti per questa causa contro la contro l'energia nucleare di questi concerti viene fatto un film il film fa il giro del mondo e io mi ricordo perfettamente quando siamo andati con degli amici a vedere i concerti di no nukes naturalmente fatti film in italia a roma per la precisione e in quel concerto e in quel film c'è questa cosa qua che è il momento in cui ci fa conosce noi conosciamo che cosa vuol dire bruce spingsteen 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 Grazie a tutti. 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 So, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. , grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.